Direttore, siamo alle porte di Pasqua, ma la situazione resta difficile e complicata, anche e soprattutto per quanto riguarda i ristori. Voi a tal proposito, come CNA, avete scritto una lettera ai parlamentari abruzzesi affinché si facciano portavoce con il Governo per far sì che queste risorse possono arrivare. Allora, queste risorse dovrebbero arrivare in fretta. Diciamo la verità, il Governo ha accettato finalmente una cosa che noi diciamo da tanto tempo, cioè di dare i ristori in base al calo di fatturato e non in base ai codici Ateco, però hanno messo questa soglia del 30%, che è una soglia secca e che rischia di non far arrivare questi ristori, secondo calcoli che abbiamo fatto noi, a più del 70% delle imprese. Noi abbiamo detto invece al Governo, a livello nazionale, adesso abbiamo scritto ai parlamentari, perché si facciano promotori di questa proposta in Parlamento, che ci sia una sorta di décalage, perché qui arriviamo all'assurdo che chi ha perso il 29% di fatturato non prende niente, chi ha perso il 30,1% di fatturato prende tutto. E questo non è possibile in un contesto, in una situazione così complicata come quella che noi stiamo vivendo. Il Governo dice che questi ristori arriveranno dalla metà di aprile. Diciamo che anche l'altra volta, quando hanno dato i ristori a novembre, sono arrivati, diciamo, velocemente, perché loro hanno scelto una strada, che invece magari non ha scelto la Regione Abruzzo, di fare i bang e tutta una trafila, che poi ha ritardato tantissimo i ristori abruzzesi, che è quello di dire, fate la domanda, diamo i ristori, i controlli li facciamo dopo. Quindi spostiamo l'onere della prova, come si dice, cioè del fatto se io ho detto una cosa sbagliata, io faccio un'autodichiarazione, poi sarà lo Stato a dire se qualcuno ha fatto il furbo. La zona arancione, pensiamo ai servizi alla persona, classico, parrucchieri, estetiste, però qui il calo di fatturato, noi abbiamo fatto un calcolo, le dicevo all'inizio, su 12.000 imprese in tutta Italia c'è un campione significativo, molto significativo anche abruzzese, l'80% delle nostre imprese ha perso mediamente il 27%, con punte sul turismo, ristorazione, spettacoli, tutta la montagna, dove hanno perso dall'80 al 90%. Quindi noi continuiamo a dire, ristori subito, speriamo che ad aprile, questa è anche un'altra nostra proposta, speriamo che ad aprile ci siano le condizioni per l'Abruzzo di entrare in zona gialla, perché in questo modo possono riaprire anche i ristoranti. Però la via maestra per uscire da questa situazione è potenziare la vaccinazione di massa. Grazie a tutti.